vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org in nomine patris et fili et spiritus sancti amen nella festa della sacra famiglia facciamo qualche riflessione sulla sua natura per fare ciò occorre innanzitutto capire i suoi scopi gli scopi della sacra famiglia come di ogni famiglia di ogni matrimonio sono due il bene dei figli e il bene degli sposi il bene dei figli è il primo scopo della famiglia e consiste nella generazione ed educazione dei figli nel caso della sacra famiglia questa generazione non fu opera di un uomo cioè di san giuseppe ma di dio stesso il frutto di questa generazione non era un semplice uomo una persona umana bensì una persona divina con la natura divina che possiede anche la natura umana ossia gesù cristo stesso questa è dunque una grande perfezione della sacra famiglia che la generazione del figlio il primo scopo della famiglia è opera di dio stesso e che il suo frutto ugualmente è dio stesso nel caso della sacra famiglia in altre parole il padre è dio ed il figlio è dio quanto a questa generazione del figlio la beatissima vergine maria e san giuseppe non sono meramente passivi bensì collaborano con i disegni eterni di dio in quanto il loro legame matrimoniale e la loro vita comune sono il contesto della natività e dell'educazione del figlio essi collaborano dunque con dio e collaborano non in modo carnale bensì in modo virginale e dunque più perfetto il bene degli sposi è il secondo scopo della sacra famiglia il bene degli sposi o in altre parole la loro assistenza reciproca questa assistenza reciproca tra loro possiede anche una grande perfezione in quanto viene indirizzata ad un fine più sublime di quello di tutte le altre famiglie cioè l'educazione e la cura di nostro signore gesù cristo stesso i due scopi di qualsiasi famiglia che sono il bene dei figli e del bene degli sposi hanno come ultima meta la santificazione del figlio e poi quella di tutti i membri della famiglia la sacra famiglia costituisce un'eccezione a questo principio perché la santificazione non viene dai genitori ma piuttosto dal figlio lui infatti non ha bisogno di santificazione in quanto è il santo stesso ed in quanto tale costituisce se stesso la fonte della santificazione di sua madre e di san giuseppe ogni membro della sacra famiglia è modello delle virtù proprie al suo stato san giuseppe è modello di docilità alla volontà di dio espressa nell'ambasciata dell'arcangelo modello della cura paterna nel guidare la sacra famiglia a betlemme a gerusalemme a nazareth ed in egitto modello della provvidenza paterna nel suo lavoro la madonna invece è modello di tutte le virtù manifestate nel racconto degli evangelisti in particolare delle virtù materne della sottomissione della preghiera e della pazienza il signore gesù invece manifesta le virtù filiali in particolare quella di sottomissione umiltà obbedienza e di onore verso sua madre e suo padre adottivo malgrado il fatto che è infinitamente superiore a loro essendo appunto il loro creatore e dio in questi modi possiamo dire in una parola che ogni membro della sacra famiglia secondo il proprio ruolo dentro di essa è modello eccelso della carità seguendo questi esempi della sacra famiglia proviamo noi a compiere i nostri doveri verso i nostri familiari genitori e figli amiamoli non con indulgenza eccessiva verso le loro eventuali debolezze ma nella carità e nella misericordia con la preghiera l'esempio e con la parola quando riteniamo che sarà ascoltata chiediamo aiuto in tutta la sacra famiglia per poter ogni giorno in compagnia di san giuseppe della beatissima vergine maria con tutti i nostri familiari adorare il volto ineffabile del bambino gesù in cristo per tutti i secoli dei secoli amen in nomine patris e fili et spiritus santi sia rodato gesù cristo vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org